E' arrivato esattamente alla scadenza del termine stabilito, l'esito dell'autopsia effettuata sul corpo del noto modicano Peppe Lucifora, morto assassinato lo scorso 10 novembre nel proprio appartamento del quartiere dente. Da allora solo ispezioni e tanto parlare senza mai una prova certa o un nome iscritto sul registro degli indagati. Quello che è emerso dall'esame cadaverico conferma è in parte integra quanto già immediatamente divulgato dagli organi inquirenti. Peppe Lucifora è stato strangolato e il suo sangue terminato nei polmoni ne avrebbe provocato il decesso. Secondo quanto emerge dall'esame curato dal medico legale Giuseppe Iovara, Lucifora è stato assassinato da una persona sola che lo ha colpito con violenza, tanto da fargli perdere i sensi. Prima calci e pugni, poi una volta a terra, quasi tramortito, lo ha finito afferrandogli il collo e strangolandolo con violenza utilizzando solamente la mano destra. Il cuoco di 57 anni non ha opposto alcuna resistenza. Nulla ha potuto contro il proprio assassino, persona di cui sembra si fidasse che lui stesso avrebbe fatto entrare in casa appartamento dove nessun rapporto sessuale emerge sempre dall'autopesia, sembra essere stato consumato. Peppe Lucifora, sempre secondo gli ultimi dettagli emersi dagli esami tossicologici, non avrebbe neanche fatto uso di droghe. Resta quindi ancora da spiegare la presenza di sostanza stupefacente in quell'appartamento e chi ha introdotto droga in casa Lucifora. Intanto il legale della famiglia della vittima, Ignazio Galfo, ha richiesto una copia forense del tablet per effettuare alcuni accertamenti di parte. I tre fratelli di Lucifora risultano ancora parti offese. Un delitto irrisolto, una storia che si arricchisce di qualche particolare ormai confermato, ma che ancora vede i carabinieri impegnati nelle indagini alla ricerca del responsabile. Nulla emerso riguardo il telefono e le chiavi della stanza da letto mai trovate e che l'assassino ha utilizzato per chiudere dentro il corpo ormai privo di vita. Adesso non resta altro che attendere l'esito degli esami portati a termine dai rissi di Messina. Forse altre prove e altri indizi utili alle indagini potrebbero arrivare proprio dai reperti sequestrati all'interno dell'appartamento di Lucifora.